C'è una parola che è facile e difficile allo stesso tempo, forse la più istintiva, però è anche la più complicata, è una parola che spesso si ammanta di diffidenza, di distacco, la parola politica, ma è la parola essenziale del complesso umano, della comunità umana. Politica, non devo scomodare l'etimo evidentemente per evocare le radici di ciò che ci tiene insieme, di una vita comune per l'appunto. Penso a una frase in particolare che sorprendo molto spesso sulle labbra dei giovani, ma anche dei meno giovani, io non mi interesso di politica, è una frase in apparenza inoffensiva, in realtà è pericolosissima, perché è come trarsi fuori dal disegno di una collettività, dal perimetro in cui mettiamo in gioco passioni, entusiasmi, soprattutto desideri, istanze, voglia di cambiamento e democrazia nello specifico, proprio la sostanza più profonda della democrazia, è dentro lo spazio della politica, della politica intesa come attività, della politica intesa come scambio, intesa come dialettica e come impegno. Penso a un resistente della prima ora, Piero Gobetti, di cui mi sono a lungo occupato, un intellettuale antifascista morto che non aveva compiuto 25 anni e penso in particolare a una sua frase, ne ha dette moltissime illuminanti, quella più nota e quella che rimanda al fascismo come autobiografia della nazione, ma in questo caso, in quella confusione degli anni venti, in quel fascismo incipiente degli anni venti del secolo scorso, Gobetti diceva restare politici nel tramonto della politica e io credo che questo sia il punto, restare politici.